Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui, come ogni 15 del mese, cerco di farlo insomma almeno ogni mese, per l'anteprima Panini Disney 376, quindi andremo a vedere quello che uscirà tra due mesi in edicola, libreria e fumetteria, per quanto riguarda appunto la sezione Disney, questa è l'anteprima 376, ovviamente qui è tutta la parte per quanto riguarda i fumetti della Panini Comics, che escono in edicola, che io comunque non seguo, diciamo mi va di spiegarlo un'altra volta per chi non lo sapesse, non li seguo non perché non mi piacciono, ma sono più difficili da trovare, costano di più, fumetti sui supereroi non mi sono quasi praticamente mai piaciuti in vita mia, tranne questo qui, Batman ogni tanto, ma non mi hanno mai fatto impazzire i fumetti dei supereroi, invece mi sono sempre piaciuti fin da piccolo, ormai da due anni sono tornato a leggere Disney, per cui quest'oggi andiamo a vedere insieme le uscite in edicola, libreria e fumetteria, per quanto riguarda la Disney, del mese di febbraio 2023, allora, vediamo un po' di avvicinare, così possiamo vedere, allora, prossime uscite di febbraio, il primo febbraio il 3506, poi ci sarà il 3507, fino ad arrivare al 3509, i quattro numeri di febbraio, con il numero 3508, uscirà il topolibro, il teatro raccontato da Topolino, 9 euro e 50, al 12 febbraio 2022, 160 pagine, Poi abbiamo qui la statua di Klondike di Zio Paperone, con l'esclusiva statua completa, in che senso completa? Visto che, vabbè, si sta festeggiando il 75esimo anniversario dalla prima apparizione dell'ozione, tornate nel Klondike con Zio Paperone e riscoprite le migliori storie dedicate alle gesta dell'ozione, quindi questi saranno i numeri di febbraio, niente di particolare, almeno per quanto mi riguarda, e quindi, niente, questi sono i topolino di febbraio, vediamo un po' che altro c'è, abbiamo ovviamente qui, possiamo vedere, Topolino, il teatro raccontato da Topolino, quindi il topolibro, che uscirà anche da solo, insomma, 15 febbraio, 140 pagine, 7 euro e 50, con la prefazione di MXX, non si sa ancora, Marco Nucci, dovrebbe essere lui, MN, sì, vediamo, il nuovo numero della collezione speciale di cartonati, alza e si parla sul palcoscenico di grandi rappresentazioni e autori intramontabili, 350, vabbè, a me non interessa, sinceramente, se a qualcuno di voi interessa me lo faccia sapere nei commenti, mi chiamo Paperinic, Topolino Extra numero 14, anche questo, questo è un volume della libreria Fumetteria, 14,90 per 192 pagine, a chi piace Paperinic, insomma, ragazzi, ovviamente questo credo sia da prendere, poi abbiamo Noi Cugini, Noi Cugini, vediamo un po', le più belle storie dei fumetti, Noi Paperino, Paperoga e Gastone, questo mi potrebbe interessare, visto che amo i Paperi, amo Paperino, anche Paperoga, insomma, il mondo dei Paperi mi piace, mi è sempre piaciuto, vediamo un po', 25 euro, però, vabbè, questo è un volume della libreria, quindi non mi piace più, scherzo, mi piace ancora, ma, ragazzi, sapete benissimo, chi mi segue lo sa, che i cartonati non li acquisto, tranne in rare occasioni. Andiamo nel fulcro, insomma, del discorso, con le pubblicazioni di Edicola, che a me interessano molto di più, Zio Paperone numero 56, in uscita a febbraio, 192 pagine, 3,70 euro, Su Zio Paperone 56 in arrivo una nuova sfilata di grandi autori alle prese con il papero più ricco del mondo, Giorgio Pezzini, Giovan Battista Carpi, firmo nello Superstar, allora, Zio Paperone, ragazzi, è un mensile che io non acquisto, ho acquistato numero 50, acquisto occasionalmente, è una bella testata, ma non è tra le mie preferite. I grandi classici Disney numero 86, questo è il numero di febbraio, ecco, questo è un mensile che io acquisto occasionalmente, e quasi sempre, perché secondo me, io continuo a dire che è la miglior testata Disney, ovviamente, dopo il settimanale Topolino. Vediamo che cosa ci sarà, 5 euro, 240 pagine, a febbraio, il numero apre con una storia che profuma di tartufo, Zio Paperone e i tapir longhi fiutatori, del duo Rodolfo Cimino e Giorgio Cavazzano, a seguire la bizzarra Paperino Leffo Filippo, scritta da Attilio Mazzanti e disegnata da Giulio Chierchini. E poiché a febbraio, per lo stivale italico, il mese della canzone, la sezione Superstar dedicata alla musica, da quella sinfonica con Paperino lo spartito inedito, che vede all'opera Romano Scarpa e ai testi e alle matite di Giorgio Cavazzano e Lechine, dopo un passaggio nell'antica Roma con Topolino, insomma, questo numero sarà dedicato anche a Sanremo, visto che a febbraio in Italia inizia Sanremo. I grandi classici Disney, ragazzi, a me piace molto, ma non lo acquisto sempre, vado, insomma, di mese in mese, vado a giudicare questo, potrebbe interessarmi, anche perché la musica è una, anzi, forse, non forse, sicuramente è la mia passione principale, ma vedremo. Continua le grandi saghe, con le uscite del 17 febbraio, 17 marzo, 3 marzo e 31 marzo, anche le uscite di marzo. Almanacco Topolino numero 12, ecco, il bimestrale che io acquisto, tutti i numeri e continuerò ad acquistare, la copertina dovrebbe essere ancora non colorata, ma dovrebbe essere comunque questa. Eh, ma c'è una brutta cosa che ho visto, una cosa che non mi piace per niente, ragazzi. Spero sia un refuso, ma l'almanacco Topolino aumenterà 5,90, aia, aia, se davvero è 5,90, inizio a... Non lo so, ragazzi, io voglio acquistarlo, voglio continuare ad acquistarlo, però se davvero aumenterà di 90 centesimi, 5,90, eh, non lo so se lo prenderò. Un gran carnevale del nuovo almanacco Topolino, con un classico italiano del 1986, Pippo e il carnevale di Topolinia, quindi parlare anche di carnevale, sta notizia mi ha un po'... non lo so, ho accusato il colpo, ragazzi, se davvero questo era 5,90, valuterò ancora se acquistarlo. Però è possibile che aumenta solo l'almanacco Topolino? Spero sia un refuso, dai. Paperino numero 513, il numero di fine febbraio è 3,70 per 192 pagine, Grandi Aventure a Paperopoli con Paperino e Cugini, nel numero in edicola a fine febbraio. I lettori troveranno la storia special Paperino e l'amico d'infanzia, scritta da Carlo Candy e pubblicata per la prima volta nel gennaio 79. Paperino è un altro mensile che ho acquistato per un po' di tempo, per 6-7 mesi, poi l'ho acquisto occasionalmente. Paperinic numero 75, il numero di febbraio, 4,20, ovviamente sempre il prezzo. Poi abbiamo Topolino in Team, 6,20 per 288 pagine, questo non mi interessa. Disney Big numero 179, 6,50 per 416 pagine. Disney Big ne ho acquistati soltanto due, tra l'altro manco le ho lette ancora tutti. È una pubblicazione carina ma troppo scomoda da collezionare. 100% musica, le più belle avventure, per 100% Disney. Numero 31, 6,50 per 288 pagine. Questo mi potrebbe interessare, visto che si parla di musica, perché uscirà a febbraio, come Sanremo, ma è difficile da trovare, almeno nella mia città è un po' difficile da trovare in ericola. Poi uscirà, prima verissima, questa è un'uscita di marzo, 192 pagine, 4,50 euro addirittura. Mi sembra che anche questa sia aumentato. È ancora aumenti ragazzi, ma veramente ci sono rimasto davvero male per l'aumento dell'almanacco. Se fosse vero, 5,90 euro, un aumento di 90 centesimi, ragazzi, mi sembra un po' tanto. Che cosa acquisterò a febbraio? Sicuramente Topolino, settimanale, si acquista sempre. Almanacco Topolino e forse anche Grandi Classici Disney. Forse anche Zio Paperone, ma non lo so ragazzi. Sono rimasto scioccato da ciò che ho visto qui, cioè 5,90 euro all'almanacco, si è davvero aumentato. Ci farò un pensierino, non è sicuro che l'acquisto, ma vediamo. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa acquisterete voi nel mese di febbraio. Mi sembra un'anteprima un po' troppo scarna per quanto riguarda i miei gusti. Fatemi sapere cosa prenderete voi ragazzi, è sempre un piacere. Commentate pure, è un piacere enorme per me. Ormai siete degli amici, seppur virtuali per me. Vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per il supporto. Mi raccomando, fate bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!